Contratto collettivo ormai fermo da sette anni, riduzione del potere d'acquisto di chi lavora nella scuola che si è ridotto di circa 220 euro. Stop dei concorsi per dirigenti scolastici, ancora gravi problemi di carichi di lavoro fuori controllo e dei tanti precari rimasti fuori del personale ATA quasi cancellato dall'agenda governativa. Queste e tante altre le difficoltà e le incertezze che hanno portato CGL, Cisle e Will Scuola alla mobilitazione proclamata per il prossimo 23 maggio, giorno in cui tutti i lavoratori della scuola incroceranno le braccia. Secondo la CGL, la legge 107 sulla pessima scuola risponde ad una precisa strategia che vuole dividere la scuola in docenti di serie A, di serie B e di serie C e che nega diritti e riconoscimenti al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Strategia che costituisce un lessico in cui dominano parole come competizione, merito, prestazione e rincara la dose e la CGL. Tutto ciò, secondo il sindacato, è contrario allo spirito costituzionale della scuola pubblica, la cui missione è quella di educare, formare, istruire e fornire le chiavi della conoscenza a tutti, senza lasciare nessuno indietro. Dopo le numerose sollecitazioni avanzate al governo per il dialogo sulla legge 107, quindi per aprire le trattative per il rinnovo dei contratti, si è puntato alla mobilitazione che continuerà con lo sciopero generale del 23 maggio e ancora dopo. Dopo la festa dei lavoratori, in cui probabilmente più degli anni precedenti è stata sottolineata l'assenza dell'occupazione in regione e la grave situazione dei giovani, che non hanno garanzie per il futuro lavorativo a causa di assenza di innovazione, tempo di tirare le somme. In Molise, infatti, persi 11.000 posti di lavoro in 7 anni. A risentire della crisi dell'ultimo periodo anche i settori turismo, pulizie e servizi che hanno organizzato una manifestazione per il prossimo venerdì 6 maggio nei pressi della Giunta regionale.